Spero che riusciate a vedere le immagini, forse se sto seduto magari consento di vedere a tutti. Allora, io oggi faccio un po' una carrellata di invenzioni che comprendono sia le grandi invenzioni, quindi i mezzi di trasporto, sia le piccole invenzioni che possono anche essere simbolizzate, pensiamo a due simboli che ci accompagnano quotidianamente, che sono la chiocciola e l'hashtag, il cancelletto. Perché? Perché è un'occasione anche per saldare la storia linguistica, la storia sociale e la storia culturale. È quello che credo dovremmo fare un po' tutti quando cerchiamo di mettere insieme i saperi, perché la lingua è un veicolo fondamentale, ma si porta dietro davvero secoli e secoli di esperienza culturale, sociale e anche di generi più specifici. Allora io proverò, ovviamente sarà una rapidissima carrellata, perché altrimenti non ci sarebbe stato il tempo nemmeno di iniziarla questa breve storia, presenterò una serie di oggetti, quindi altre tante invenzioni, e cercherò anche di collegarli a una data, perché questa data possa essere significativa, o perché magari si pensa, per lo meno per quel che ne sappiamo oggi, che la parola nasca in quell'anno, o perché in quell'anno l'invenzione di cui parlerò ha avuto la sua diffusione reale, quindi per un motivo o per l'altro si è riuscita a dilagare. Quello che vedete, forse molti di voi lo riconosceranno, è un FIAC, è una vettura a cavalli, che serviva allora per portare i passaggeri, e la data a cui potremmo collegare l'invenzione di cui vi parlerò, il tram, potrebbe essere il 1878, perché sembra che compaia quest'anno, per lo meno per la prima volta, tram su una rivista specifica, che è il 1878. C'è una bella testimonianza del 1901 che fa così, presso i greci, nei veicoli dalle grandi fogge, non si vedevano per uso personale che i vecchi, donne e gli infermi. Presso i romani ugualmente erano le donne e i magistrati, cioè la gente o grave o lenta o debole, che andavano nelle carruche, o meglio nelle lettighe, portate da due portatori, e ciò era considerato mollezza, o d'eccesso, o di lusso, o conseguenza di infermità, di malattia. La quasi totalità dei viventi marciava a piedi, o procedeva a cavallo, e ciò significava vigoria, forza, energia fisica e morale. Oggi, nella moderna civiltà e con l'acceleramento progressivo di tutte le forme della vita, siamo arrivati a far sì, grazie al fiacre, all'ominibus e al tram, che non vi sia più quasi nessuno disposto ad andare a piedi, anche se si tratti di fare soli 50 metri di strada. Molto attuale questa testimonianza, è del punto del 1901, si parla appunto di fiacre, si parla di ominibus, vedete queste grandi carrozze che trasportavano passeggeri, gli ominibus erano per lo più privati, i fiacre erano pubblici, e il tram, anche il tram inizialmente andava su rotaie. Ecco, qui c'è un bel esempio di tram su rotaie, le vie su cui il tram correva, facciamo per dire, erano le Ippovie, e appunto di Ippovie le grandi città italiane di quel periodo si cominciarono a riempire. Il fiacre circolava ancora, circolò ancora a Genova, per esempio fino alla fine dell'Ottocento, ma era del secolo precedente, era settecentesco. Ovviamente se volessimo proseguire, questa la possiamo saltarla, se volessimo proseguire con un'altra straordinaria invenzione, un altro mezzo di locomozione, ci deve venire in mente l'automobile, siamo più o meno negli stessi anni, l'11 luglio, ecco l'anno 1899, nasce la Fiat. Ed è interessante sapere che fra il 1894 e il 1918 sono ben 39 le fabbriche automobilistiche in Italia. Sono sei quelle maggiori, tra cui la Lancia, l'Ital, l'Isotta Fraschini, eccetera, però sono ben 39 le aziende, non tutte nazionali, diffuse in Italia. Il regime aveva un grande interesse a che si legiferasse, perché il trasporto su strada potesse essere incrementato, e infatti cominciano a nascere tra gli anni 20 e gli anni 30 alcune linee autostradali importanti, fino alla famosa Milano-Torino del 1932. Nel 1946 l'industria automobilistica, dopo essere entrata in crisi ovviamente durante il secondo conflitto mondiale, risorge e c'è chi l'aveva già cantata e continuerà a cantarla nel genere canzonetta. Sarebbe molto bello ripercorrere alcuni aspetti di questa storia sociale dell'Italiano proprio attraverso le canzonette popolari, alcune delle quali contengono automobili famose. Questa la riconoscete? Questa è una, forse, è la prima automobile Fiat con la quale si comincia a parlare di quasi di massificazione in termini di trasporto automobilistico. Fu cantata così, si incrocia in mille corse, si dona a mille borse, perché evidentemente era abbastanza ben acquistabile, si appresta a mille prove la 509, la famosa 509. Questa la riconoscete senz'altro, nel 1936 invece è stata immessa sul mercato la 500A Topolino, che poi comunemente sarebbe stata chiamata Topolino, il slogan della Fiat allora era anch'io l'automobile, Fiat 500, la piccola grande vettura. Ovviamente qui le tasche potrebbero essere un pochino più meglio accolte. Nel 1937, per dire che nel pieno regime, nel pieno ventegno, si potevano anche cantare le lodi di automobili americane, nel 1937 un attore incantante romano, si chiamava Toto Mignone, intorno all'elogio della Ford proprio. Mi spiace, ma non mi posso fermare, vado un momento al Polo Nord con la Ford, ti scriverò, se qua giù tornerò, vado un momento al Polo Nord con la Ford. Ecco, erano anni in cui davvero la canzonetta popolare celebrava un bene che man mano stava diventando un bene di massa. Non era ancora il bene di massa che sarebbe diventato dopo la conclusione del secondo conflitto mondiale, ma comunque, soprattutto con la nascita delle utilitarie, perché di queste automobili stiamo parlando, ci furono maggiori possibilità per tanti italiani e tante italiane di poter disporre di un'automobile. E ovviamente non poteva certamente mancare l'idrovolante, comunque in qualche modo parliamo anche di aeroplano. Per quanto riguarda l'aeroplano la storia è un po' più compessa, conosciamo tutti la storia del primo volo, questo è appunto un idrovolante che volò come appunto primo, in anni nei quali ovviamente i cieli erano solcati poco, e saltiamo all'immagine un pochino più recente, ci conduce al telefono, qui forse riconoscete i telefoni bianchi, questa è una scena di uno dei tanti film sui telefoni bianchi, erano anche detti film all'ungherese o commedia all'ungherese, perché questi film erano ambientati in Ungheria o in paesi che non potevano essere identificati con l'Italia, perché in pieno regime ambienti così lussuosi non erano certamente consoni a chi si trovava a viverli. 1932, qui siamo al primo computer 1944, il famoso Mark I, Mark I, computer di grandissime dimensioni, il primo grande computer a cui avrebbero fatto seguito tanti altri. Ovviamente devo correre un po' per darvi qualche impressione in più, e se facciamo un passo indietro, e sarebbe interessante e carino farlo, e pensiamo anche ai tanti passatempi, uno dei primi grandi passatempi, che sarebbe poi diventato passatempo nazionale, internazionale, tra il Novecento e anche ovviamente ancora oggi, è il cruciverba. Il cruciverba nasce negli Stati Uniti, il cruciverba come cruciverba moderno, nasce nel 1913, nel 1925 arriva in Italia per la prima volta, come moderno cruciverba, sulle pagine della Domenica del Corriere. Uno si potrebbe divertire anche a rifarlo, ovviamente le definizioni erano molto elementari, immaginate uno verticale, uno orizzontale, le parole da indovinare erano puzzola e pantera, ed era molto interessante la scelta puzzola, definita come mammifero, quindi bisognava indovinare mammifero, le parole erano incrociate, è molto interessante perché l'espressione americana, l'angolo americana originale era crossword puzzle, e quindi evidentemente qualcuno scherzosamente poteve anche aver pensato al puzzle, aver pensato alla puzzola come improbabile traduzione del termine americano. Siamo ancora in tempi ovviamente nel ventennio, ovviamente il fascismo come sappiamo da un certo momento in poi cominciò a incrementare la lotta contro i foristerismi, contro le parole di origine straniere, l'Accademia d'Italia si incaricò di tradurre in equivalenti italiani tantissimi termini di espressione dell'angolo americano, ma non solo, ci furono, come molti di voi sanno, traduzioni improbabili, ci fu anche il tentativo di tradurre sport, il ludo o in diporto, immaginate il Corriere dello Sport che diventa il Corriere del Ludo o del diporto. Molte di queste traduzioni infatti caddero, non furono accettate, il cowboy si propose di tradurlo come buttero americano e via dicendo. Ovviamente anche il puzzle, o comunque il cruciverba, ma il puzzle doveva essere tradotto. Puzzle in origine significava enigma, in dominello e qualcuno provò a tradurlo. L'Accademia d'Italia provò con parole incrociate, parole incrociate fu in concorrenza con parole crociate e cruciverba e poi diciamo così più o meno tutte e tre queste soluzioni sarebbero rimaste in voga. Quando uscì, sempre nel 1925, il primo libro dedicato alle parole incrociate o alle parole crociate, chi introdusse questo volume usò scherzosamente la parola puzzolo, traducendola ovviamente improbabilmente, per agire scherzosamente agli intenti del regime di tradurre in italiano i termini provenienti dall'estero. e potremmo continuare questa storia ancora per lungo. Nel frattempo c'era stato, nel 1926 era stato tradotto parzialmente in italiano il primo grande testo, un testo teatrale fantascientifico che introduceva la figura del robot, era il testo di uno scrittore cieco e nell'intenzione dell'autore il robot era una parola di origine cieca che traduceva più o meno l'idea che il robot fosse il lavoro servile o il lavoro forzato, in quel bellissimo testo, oggi quasi inattuale ma bellissimo sarebbe da recuperare, l'autore in questione si chiamava Chabek, suggerisce che il robot deve essere ovviamente al servizio dell'essere umano, ma è pericoloso, infatti quel testo si concludeva con la ribellione di robot divenuti fin troppo umani per poter continuare a servire l'essere umano come dell'intenzione dell'autore. E qui siamo, questo lo riconoscete tutti, è il vecchio gettone telefonico e l'anno 1945 è proprio l'anno in cui la Teti introduce questo gettone con le tre scanalature che avrebbero consentito all'oggetto di essere immesso in tutti i telefoni pubblici. Sarebbe l'urato a lungo il punto gettone telefonico e sarebbe stato ripreso anche più o meno scherzosamente da tanti. Avrebbe operato per più di 50 anni, fino al 31 dicembre, lo sappiamo, il 2001 con l'introduzione dell'euro, poi ce ne saremmo tutti sbarazzati, ma è interessante che qualcuno come Cimelio archeologico l'abbia più volte ripreso. Molto carino quello che disse allora Matteo Renzi, premier, quando per ribattere le critiche alla modifica dello statuto dei lavoratori, quindi il famoso articolo 18, disse che chi difende, chi difendeva quest'articolo, è come uno che cerca di infilare un gettone telefonico nell'iPhone, quindi recuperando questa immagine archeologica di archeologia industriale, però ancora presente, e ancora oggi ce la ricordiamo tutti, nell'immaginario collettivo. Andando un pochino avanti, un po' indietro, se volessimo anche recuperare qualcosa, sto tagliando un po', ma torniamoci un attimo, magari questo potrebbe essere interessante, se noi ritorniamo un po' all'immagine del punto dell'idrovolante, e volessimo collegare anche questa immagine un anno, l'anno emblematico potrebbe essere proprio il 1926, perché il primo aprile di quell'anno del 1926, da un idroscalo torinese sul Po, parte per un viaggio che si sarebbe concluso a Trieste, proprio il primo idrovolante, l'idroscalo sarebbe stato poi abbattuto, e ancora oggi, per chi va a Torino, nel parco del Valentino, c'è una iscrizione commemorativa, scolpita su una lastra di marmo, che ricorda ancora l'evento, e dice, di qui con idrovolante, monomotore a sei posti, partiva il primo aprile del 1926, il volo inaugurale della prima linea aerea italiana, Torino, Pavia, Venezia, Trieste, perché per arrivare a Trieste, l'idrovolante quell'anno dovete far tappa, prima a Pavia e poi a Venezia, demolito, appunto l'idroscalo, appunto l'aeroporto, per esigenze di transito, nel fiume il vecchio idroscalo, resti ricordo di una impresa, che segnò il nascere dei servizi aerei civili italiani, la città di Torino pose nel 1954, l'iscrizione fu posta, infatti, in quell'anno. Oh, sarebbe carino anche fare la storia della parola aeroplano, proprio in questo tentativo di parlare di storia sociale e storia linguistica, perché è una parola che nasce alla fine dell'Ottocento, e è seguita una ventina d'anni dopo, era un romanzo, forse che sì, forse che no, da un altro tentativo di tradurre in modo diverso l'aeroplano, che in frattempo era diventato già aereo. D'Annunzio propone in quel romanzo velivolo. Velivolo era inizialmente un aggettivo di origine classica, significava altro, non significava nulla, ovviamente, che potesse a che fare con qualunque veicolo in volo, ma esprimeva invece il movimento di una nave, di una nave per il mare, e appunto aveva valore di un aggettivo. Piacque molto a D'Annunzio, l'idea di poter collegare il viaggio per il mare al viaggio per cielo, e lo spiego anche, spiego anche in una intervista al Corriere della Sera, perché aveva scelto velivolo per tradurre il nuovo oggetto volante. La parola è leggera, questo schisse D'Annunzio, fluida, rapida, non imbroglia la lingua, non allega i denti, di facile pronunzia, avendo una certa somiglianza fonica col comune e veicolo, può essere adottata dai colti e dagli incolti. Pur essendo classica, esprime con mirabile proprietà l'essenza e il movimento del congegno nuovissimo. Sappiamo quante furono le parole inventate da D'Annunzio, per esempio rinascente è un'altra invenzione d'Annunziana, e D'Annunzio ovviamente in molti casi giustificava le sue scelte, come appunto nel caso che abbiamo visto, come nel caso del velivolo. Un altro termine che potrebbe essere ricordato è scotch. Lo scotch appare sul mercato americano nel 1930. È inventato da un giovane ingegnere e nasce in seno all'industria automobilistica. C'era un motivo preciso. Per macchine che non fossero monocromatiche, c'era l'esigenza di poter evitare che ci fossero, diciamo, sbavature, soprattutto sui bordi. E si cominciò a risolvere il problema con semplici strisce di giornale, però ci si accorgeva che quando le strisce venivano tolte, si portavano dietro perché adesive, un po' di vernice sottostante, quindi l'operazione non era perfetta. E qualcuno pensò di usare invece delle strisce, appunto dei ritalli di giornale, delle strisce crespe che potessero anche aderire in modo non troppo forte perché nel momento in cui si fossero staccate non si portassero dietro vernice. E così fu. La storia, ma in realtà è aneddotica e leggendaria perché nessuno l'ha verificata, le ipotesi etimologiche sono diverse, e si collega anche all'origine della parola. Perché mai sarà stata chiamata scotch questa parola? L'aneddoto, la leggenda, dice che un operaio, ma ripeto è solo leggendaria, però l'aneddoto carino va raccontato, un operaio che provava ripetutamente a mettere e togliere queste strisce di carta crespa e si accorgeva che venivano via troppo, troppo facilmente, si accorsi allo stesso tempo che venivano via troppo facilmente perché c'era poca colla. E la colla infatti veniva messa soltanto sui bordi e non al centro. E allora se la prese con un venditore dell'azienda per la quale lavoravano l'una e l'altra disse ma vai a dire ai tuoi boss scotch, scozzesi, scottish, che mettano un po' più di colla perché così non ce la facciamo. Ovviamente là già allora scottish, scotch, era sinonimo di avaro, di ai tuoi capi scozzesi di mettere un po' più di colla perché altrimenti noi non ce la facciamo a realizzare tutto questo. Molto carino e qui veramente uno spaccato italiano e americano al contempo. Sarebbe da leggere tutto ma il tempo non ce l'ho, però un accenno lo voglio fare. Il 1931 venne messo in commercio da un'azienda di San Francisco il primo apriscato l'elettrico. Come quello manuale, sapete, utilizza la solita ruota dentata di avanzamento, quindi non ha nessuna differenza rispetto a quegli manuali di pochi anni prima e questa ruota era stata brevettata tra l'altro sei anni prima dalla stessa compagnia che mette in commercio la priscatole elettrica, una compagnia per l'appunto californiana ed è davvero l'alba di una nuova era. Allora, quell'anno, il 1931, proprio in coincidenza con l'entrata sul mercato di questo nuovo apriscatole, apriscatole elettrico, sulla stampa, sul giornale La Stampa, compare un articolo dal titolo La moglie americana ed è uno spaccato bellissimo perché mette in rilievo la differenza che c'è tra la vita di provincia medio-borghese americana e la vita di provincia medio-borghese italiana. Lo spaccato è uno spaccato di costume in realtà di una città, la città è Detroit, consacra l'apriscatole a utensile più usato in cucina e scrive, non posso leggerlo tutto ma questo passaggio lo leggiamo, quando ne abboglia e quando il club gli ne lasci tempo, la donna di casa prepara al consorzio, sta parlando della moglie americana, una cena molto spiccia a base di roba in scatola. L'apriscatole è l'utensile più usato in cucina. Il marito, tornando dal lavoro, deve però aver provveduto all'occorrente dopo aver mangiato asciuga i piatti che la moglie ha lavati. Gli altri pasti non danno molto da fare, la padrona di casa, perché il marito prepara il breakfast anche per la sua compagna che riposa a letto un po' più a lungo e la colazione ognuno la fa per conto proprio. Lui è al ristorante vicino all'ufficio, sul posto di lavoro, in officina, lei è al club o in casa, la meglio senza far fatica, oppure anche lei vicino all'ufficio. I letti li prepara lei nei giorni feriali e lui è la domenica. La pulizia è in carico della padrona di casa, ma è molto spiccia. L'aspiratore elettrico elimina molta fatica e i pavimenti sono verniciati all'uscito così che non occorre né cera né spazzolone. Sembra scritto oggi, pensate. L'uomo deve ancora provvedere alla manutenzione generale della casa, tenere in ordine quel po' di prato davanti e dietro la casa, curare l'automobile e il garage. La vita di una donna è di solito molto comoda e alquanto più scomoda che da noi è quella degli uomini. Tanti mariti italiani che si lamentano delle loro compagne dovrebbero fare una capatina laggiù e provare qual è la situazione della maggior parte dei loro colleghi. Tornerebbero di rancorsa, sicuri che numerevoli persone li possono invidiare. Ecco, uno spaccato proprio di vita sociale in cui il confronto tra la vita americana e la vita italiana veniva fatto in modo serio, ma anche scherzoso. Grazie alle baionette durante la guerra di secessione, quindi tra il 1861 e il 1865, i soldati americani erano riusciti più o meno ad aprire i cibi in scatola. Nel 68, quindi subito dopo, tre anni dopo la fine della guerra di secessione, cominciarono a entrare in circolazione le classiche chiavette, quelle ovviamente che arrotolate ai contenitori in scatola potevano consentire di aprire le scatole stesse. Il primo brevetto però era stato realizzato nel 1810 da un inglese che voleva fare un favore alla marina britannica perché si chiedeva di poter disporre di opportuni strumenti per aprire i recipienti sigillati che erano in situazione all'esercito. Più o meno negli stessi anni, un po' prima, ma un pasticcere francese aveva fatto lo stesso favore a Napoleone che chiedeva di poter inventare un qualche strumento che potesse aprire i contenitori sigillati a lunga conservazione che contenevano ovviamente gli alimenti per gli eserciti. Se, sempre andando un po' avanti, un po' indietro, vogliamo arrivare al 1954, ecco questo è un esempio davvero emblematico di un televisore pubblico, quei televisori che ovviamente non essendo, se non in pochissime famiglie, pochi si potevano permettere e che quindi determinavano un flusso notevole di pubblico manco fosse la sala di un cinema. Sappiamo che le trasmissioni RAI partono ufficialmente il 3 gennaio del 1954 e nascono ovviamente, questo è un altro aspetto su cui non si esiste mai abbastanza, è vero, spesso si fa riferimento al famosissimo maestro Manzi che avrebbe insegnato a milioni di persone quell'italiano che molti ancora più o meno completamente analfabeti non erano nemmeno in grado di avvicinare. Però si dimentica anche il caso di Mike Buongiorno al quale Umberto Ego dedicò un saggio famosissimo per quanto fosse approssimativo, per quanti strafalcioni possa aver commesso Mike Buongiorno, li conosciamo un po' tutti Mike Buongiorno ha rappresentato un esempio importante di quell'italiano semplice, semplice per i semplici che ha rappresentato un modello anche in questo caso di apprendimento sia pure in quella forma di semplicità. Certo qualche svarione, lo si può anche scherzosamente ricordare, che è famosissimo quello in cui, avendo una concorrente era mi pare il 1958, portato in trasmissione un gatto di pezza collerico così lei lo definì, Mike pensò si trattasse del nome di una nuova razza di felini e appunto questo gli chiese quale razza mai di felini potesse essere una razza collerica e quando, famosissimo anche questo che ha fatto un po' la storia della televisione di fronte ai nomi di due papi che erano Pio X e Paolo VI questo disse Pio X e Paolo VI, quindi pronunciò così i nomi dei due pontefici. Molto carino anche questo, a una concorrente che gli aveva detto di lavorare in una legatoria rispose e che cosa lega? Tra l'altro anche questo è un aspetto interessante su cui potremmo anche scherzare. Pensiamo anche quanto la televisione si sia portata dietro proprio di senso popolaresco di un italiano certamente in molti casi approssimativo come può essere stato a tratti anche quello di Mike Bongiorno, ma non sempre così. Lo stesso scambio tra televisore e televisione ce lo testimonia. A un certo punto il televisore è diventato la televisione che è un errore. Lo abbiamo considerato per tanti anni un errore, oggi forse soprassediamo un po', però se dovessimo stare lì a distinguere bene l'oggetto dall'emittente, la televisione ovviamente è l'ente che trasmette i programmi che sappiamo e l'oggetto si chiama televisore. Un po' scambiando i ruoli a cui faccio riferimento in termini di polarizzazione dell'errore, viene in mente anche quel famoso aneddoto che si dice a proposito di Edoardo De Filippo e a un certo punto qualcuno telefona a Edoardo De Filippo e dice siamo alla televisione e lui risponde con candore ma con quel cinismo che lo accomuna proprio a Mike Bongiorno, bene adesso le passo la lavatrice, non posso parlare con lei. E arriviamo, quanto ci abbiamo? Un paio di storie più approfondite ve le voglio fare e riguardano proprio due oggetti che ormai ci accompagnano costantemente, cioè la chiocciola e l'hashtag, passando però anche per le faccine. Facciamo un po' di storia anche di tre simboli che più o meno oggi siamo abituati a maneggiare un po' tutti. Ecco questo vedete è un caso molto interessante di come un simbolo poi possa essere sfruttato abilmente per obbedire a funzioni non previste in partenza. La chiocciola informatica lo sappiamo è una A dentro una O e quindi può condensare bene l'idea di un maschile e di un femminile perché noi sappiamo che la vocale identificativa del femminile è A, la vocale identificativa del maschile è O e allora in Italia sta circolando insieme all'asterisco, che è un altro modo per farlo, questa modalità invece è molto molto diffusa in Spagna, questo l'ho fotografato nella mia palestra, sta circolando l'idea che se io voglio risparmiare un po' di spazio, un po' di caratteri, ma voglio rivolgermi contemporaneamente a uomini e donne perché in una logica di genere, di genere oggi è corretto, cortese, garbato, giusto rivolgersi sia a uomini che a donne, allora io posso in unica soluzione invece di scrivere caro socio, cara socia, car, socia e quindi uso come simbolo passepartout, almeno per il maschile o il femminile, la chioccia. Se vogliamo ovviamente poi fare un po' anche qui la storia dell'oggetto, poi vi dirò a che età risale e risale al medioevo la chiocciola informatica, anche se a loro ovviamente informatica non era, ma era un simbolo commerciale, ecco qui abbiamo un esempio di, non so se riuscite a vederla, questa è una typewriter, non è una macchina da scrivere di fine ottocento, nel quale vedete la chiocciola condivide nel tasto il posto di altri due caratteri, che era la commerciale, quindi non l'ha inventata nessuno, chi l'ha reinventata? L'ha reinventata un ingegnere che nel 1971, un ingegnere americano, volendo parlare tra di loro i colleghi del suo ufficio, e non riuscendo a farlo perché nessuno rispondeva, prova a inventare un sistema rapido perché qualcuno possa rispondere quando a tempo, è quello che facciamo anche noi, inviando mail, inventò la prima mail, il primo sistema di trasmissione via mail, aveva nella sua stanza due computer, cominciò a scrivere una cosa sull'uno per vedere se l'altro la riceveva, funzionò il sistema e da intranet diventò poi internet, quando ovviamente il sistema riuscì a essere esportato al di fuori del contesto dell'ufficio, della società nella quale questo ingegnere appunto lavorava. E lì nacque la posta elettronica, ma ripeto è una rinascita perché noi vediamo che questo simbolo della commerciale era presente almeno, ma è molto molto precedente, alla fine dell'Ottocento. Perché questo ingegnere aveva scelto la chiocciola per poter legare il nome utente al dominio, quello che facciamo noi, no? Io ho il mio indirizzo di posta elettronica, maxarcangeli, chiocciolantin.it, che fa sì che il mio nome si abbini a un dominio che è come se fosse casa mia, che è il dominio del server. Lui voleva un segno che non fosse molto utilizzato e in effetti quando scoprì questo segno nella chiocciola questo segno aveva perso di importanza, veniva usato pochissimo e trovò quindi che era questo, poteva essere questo il segno giusto da utilizzare. Ma la chiocciola non è soltanto storia di chiocciola informatica, è storia anche di altri oggetti. Vedete queste sono ciambelline, anche queste, anche queste, sono russe e queste ciambelline hanno dato il nome alla chiocciola e il russo. Perché per noi è la chiocciola, ma per gli inglesi e gli angliamerani è hat. Anche gli inglesi e gli americani danno tanti nomignoli alla chiocciola. Ma per noi è la chiocciola perché l'abbiamo abbinata alle volute del guscio di una chiocciola. Per i russi, in una delle tante denominazioni possibili della chiocciola informatica, tutto sommato la somiglianza c'è, no? La vediamo, soprattutto qui. Ecco, queste ciambelline hanno dato il nome alla chiocciola. Questa invece è una malachite bellissima, è un altro nome per indicare la chiocciola, il nome di questa malachite, il russo è una malachite che proviene dell'Africa equatoriale. E in greco la chiocciola diventa papachi, papero, papirottolo. E in effetti se noi vediamo questa immagine stilizzata del muso di un papero può ben assomigliare a una chiocciola. E questi sono altri doci, sono svedesi, e anche in questo caso sono girelle, simili a girelle. In ebraico diventa strudel la chiocciola. La chiocciola viene chiamata col nome tedesco strudel perché come una girella può, con le sue volute, tagliate in questo modo, assomigliare alla chiocciola. Questi sono invece i gastropodi, sono anche inscatolati, ed questi gastropodi danno il nome alla chiocciola in Corea, in area coreana. Questo può essere simile, si chiama surimi, è abbastanza simile, hanno tanti altri prodotti giapponesi analoghi, e anche in questo caso, con questa specie, questa varietà di surimi, si nomina la chiocciola in lingua giapponese. Qui siamo, chiunque sia stato in un grande centro commerciale Ikea, queste ciambelle le riconosce. Queste sono canemul, quindi sono dolci alla cannella, e con questo nome spesso gli svedesi si rivolgono alla chiocciola, chiamano la chiocciola con il nome di questi dolci alla cannella. Questo invece è un botifarro catalano, una salsiccia rotolata, è uno dei nomi che in catalano indica la chioccia. È un mondo, che fa sì come che qualunque simbolo di venga internazionale, universale, e noi ce ne propiamo, venga avvicinato a noi. At, così impersonale, non ha funzionato in moltissime lingue, così come da noi, e quindi ognuno lo ha risemantizzato, risemantizzato, ridefinito, rinominato a suo modo. Questa è una felce, anche in questo caso è un nome stavolta inglese, di questa felce che viene usata per il nome della chiocciola, addirittura in America, per dire che non c'è solo hat a chiamare la chiocciola, un americano ha chiamato la chiocciola a orecchio di Van Gogh. Se infatti date un'occhiata agli orecchi di Van Gogh, hanno delle volute molto molto particolari che possono assomigliare ai movimenti interni di una chiocciola. C'è poi ovviamente l'arredamento, ci sono le stilizzazioni, vedete questo sembra una scimmia con la coda, e infatti in tedesco spesso il nome per indicare la chiocciola o è scimmia o è coda o è coda di scimmia. Ma la storia è antica, adesso non ve la posso fare per intero, fidatevi, questo è un documento cinquecentesco che si trova in Sardegna, dove c'è la chiocciola esattamente come noi la usiamo. È lo stesso segno, è la A commerciale e una A dentro la A. In effetti la chiocciola era un simbolo commerciale che aveva un valore preciso, indicava il prezzo unitario di una merce. Quindi se io scrivevo chiocciola, a sinistra indicavo la merce e a destra, come facciamo noi oggi con la posta elettronica, indicavo il dominio di appartenenza della quantità di merce, cioè quanto costava la merce. Questo simbolo, quindi, che è attestato in Spagna, almeno dal 400, ma potrebbe essere testimonianze anteriori che io non conosco, ha viaggiato per il Mediterraneo, è arrivato in Sardegna, forse attraverso la Catalogna, è arrivato poi nell'Italia centrale e meridionale e poi nell'Italia settentrionale. Parlo qualche anno fa con un amico scienziato, un grande storico della scienza, si chiama Giorgio Stabile, e lui mi dice, perché sapeva che io mi stavo occupando di questo argomento, guarda Massimo, che probabilmente la chiocciola ha usata anche Leonardo da Vinci. Dico, no. Se tu mi dici adesso che la chiocciola potrebbe averla usata Leonardo da Vinci, io adesso devo andare a vedere, consultare tutti i manoscritti autografi di Leonardo. Bene, in quattro mesi di studio matto e disperatissima, alla Lombardi faccio questo, mi chiudo in casa, tutto quello che posso farmi avere lo prendo e poi in una rapida serie di viaggi recupero quello che non potevo recuperare in tempi così rapidi e comunque era più facile per me spostarmi. Sembra davvero una storia inventata. L'ultimo documento che mi rimaneva da consultare, l'ultimo in assoluto, proveniva da una biblioteca francese, dico, vabbè, ho fatto 30, come si dice, facciamo anche 31, vediamo anche questo. E trovo questo qua. Ora, non so se riuscite a vedere quell'A, grande, non è la chiocciola purtroppo, però è un A, dentro un O. Questo è un manoscritto autografo leonardesco. Leonardo, quando voleva riposarsi un po', smetteva di scrivere, di elaborare, eccetera, si rilassava giocando. Uno dei suoi giochi preferiti era il rebus. Lui aveva moltissimo a fare i rebus. E allora lì, due secondi, essendo io appassionato di rebus, due secondi ho impiegato per risolvere i rebus là sopra. Provate un po'. Una A dentro una O, se fosse un rebus potrebbe essere? Anello. A-ne-lo. Non è ovviamente una chiocciola, non è una A minuscola dentro una O, però senz'altro un simbolo che, in questo caso, Leonardo Malgrado, perché certamente per Leonardo non aveva nessun valore massonico-alchemico, è l'A che avremmo poi trovato come simbolo alchemico, simbolo massonico, simbolo autonomistico, simbolo narcosindacalistico, in tantissimi contesti diversi. Qui ne avete alcuni. Ovviamente con il compasso, sappiamo essere legato a tantissimi altri aspetti della simbologia massonica, insomma, sono tanti. E qui siamo invece davanti a un'opera seicentesca tedesca, in cui, non so se la vedete, l'A ha quel ruolo centrale. Se leggete tutto, leggete che l'A è dentro Goet, che in tedesco vuol dire Dio, no? Quindi è una presenza centrale, fondamentale. Se c'ho ancora, quanto ho? Sì, tanto dopo non ci sono altre conferenze, quindi possiamo andare. Ah, possiamo me lo dare ancora un quarto d'ora, un venti minuti di tempo. Sarebbe carino anche fare la storia delle faccine, che è un'altra storia affascinante. Qui vedete, 19 settembre 1982. C'è qualcuno che propone una sequenza, non so se riuscite a vederla, è un po' scura. Ci si preoccupa, in quegli anni, di restituire un pizzico di possibilità di comprensione in più in messaggi che altrimenti potrebbero essere ambigui. C'è un'esperienza pesante che investe in un Ateneo americano, perché a un certo punto gli scienziati di questo Ateneo giocano un po' tra di loro, formulano una ipotesi della serie. Se si diffondesse questo gas in un ascensore del nostro Ateneo, che cosa potrebbe succedere? Qualcuno prende alla lettera questa ipotesi, pensa che a Devere si sia sprigionato chissà quale gas in questo ascensore e questo fa riflettere gli scienziati americani dell'Ateneo che si erano già cementati in gruppo e fa sì che pensino a una qualche possibilità di individuare differenze tra affermazioni serie o affermazioni scherzose. E c'è, vedete, chi propone comincia a proporre qualcosa. Vedete, la faccina in alto è una faccina sorridente, doveva esprimere ovviamente la chiave ironica del discorso interessato, e la faccina invece in basso, che oggi invece per noi sarebbe disappunto, dispiacere, doveva rappresentare il versante serio. Se proseguiamo in questa scelta, uno potrebbe chiedersi, ma queste immagini sono ottocentesche? Sono i primi tentativi di verticons, cioè di emoji, di faccine verticali. Noi quando realizziamo il classico smiling nella versione che abbiamo visto, dobbiamo ruotare la nostra testa di 90 gradi per poterle leggere bene. E qui invece li abbiamo proprio come se fossimo di fronte l'una all'altra. Sono però esempi ottocenteschi. Questo è il giornale nel quale si trovano, le vedete al centro, queste prime rappresentazioni. Qui siamo ancora prima, chissà se è intenzionale o no, qualcuno dice di sì, qualcuno dice di no. Siamo di fronte a un componimento secentesco inglese. Vedete il secondo verso? C'è, dopo Smaring, c'è quel segno di due punti con il segno che potrebbe essere... Qualcuno sostiene che è casuale, qualcuno dice no, potrebbe essere reale, visto il contesto, però insomma, certamente non possiamo dire... Qui siamo di fronte a un altro esempio. Questa è la trascrizione di un discorso anch'esso ottocentesco. Vedete anche qui, se riuscite a vedere, il punto e virgola, in un contesto che può essere adatto, visto quello che si dice, è un discorso riportato di Abramo Lincoln. Sono tutti i precedenti che gli storici di questi aspetti cercano di portare a favore e a sfavore della possibilità di individuare. Qui ovviamente siamo di fronte invece ad esempi moderni, più o meno sofisticati, tutti o quasi tutti fanno riferimento agli anime, ai disegni animali di giapponesi, perché in quel contesto hanno trovato una grandissima capacità di realizzazione, qui sono ancora più raffinati, sofisticati sistemi. Questo è un brano di un blog in cui potete vedere in che modo si compone il sistema, in un modo molto complesso, fatto di tantissime possibilità di resa. E qui si gioca con quella poesia visiva che il nostro Occidente conosce da sempre. Una poesia alla quale un grandissimo intellettuale, letterato come Padre Pozzi, si cimentò in un libro bellissimo che si chiama La parola dipinta e qui abbiamo appunto l'impressione che le icone, aggiungendosi ad altre icone, compongono, in questo caso l'immagine che vedete è quella di un peluche, di un orsacchiotto di pezzo di peluche. Seconda, terza, e questo è invece il logo famoso di un'azienda. Se volessimo proseguire su questa falsariga, potremmo pensare a recenti, recentissimi tentativi di scrivere in emoticom addirittura capolavori della letteratura mondiale. Questo è l'inizio, chi lo riconosce? Ecco, è l'inizio di Moby Dick, scritto però in emoji. In questo caso, ovviamente, c'è sia la versione testuale, sia quella iconica per far vedere ovviamente come le due componenti possano interagire e questo invece è un altro modo, questa è la riscrittura di un discorso di Obama quando era ancora presidente americano. Questo è il tentativo di riscrivere in punto sistema misto il discorso famoso pronunciato da Obama nel 2000, un discorso famoso pronunciato da Obama davanti al congresso nel 2015 e sappiamo poi che cosa ha fatto Facebook da un po' di tempo Facebook ha introdotto per chi ce l'ha ha introdotto accanto al like generico la possibilità di individuare altre emozioni che sono quelle che tornano vedete come tutto torna e sono più o meno quelle corrispondenti alle emozioni ottocentesche che vi ho fatto vedere poco fa. Quindi abbiamo la possibilità di manifestare il nostro disappunto, la nostra gioia la nostra sorpresa e così via con quattro faccine come quelle che vedete rappresentate e in più anche la faccina amorosa rappresentata dal Lab e siamo arrivati a un punto in cui le nostre faccine possono essere personalizzabili o con i Pokémon o con un personaggio attore famoso come Leonardo DiCaprio addirittura come Trump attualissimo ma queste faccine circolano da tantissimo tempo quindi sono anche abbastanza così datate anche è molto bello sembra più una foca siamo arrivati anche alla possibilità di mettere di interfacciare quello che siamo noi con quello che il mondo digitale e virtuale ci può restituire questa è un'applicazione di frontback per chi la conosce che dà la possibilità di riprodurre di ricreare a partire da una fotografia reale una fotografia virtuale ovviamente disegnata che ci può corrispondere queste sono le ultime 72 introdotte dalla codificazione internazionale ogni anno aumenta il numero di disponibilità iconiche che poi le diverse aziende multinazionali possono sfruttare queste sono le ultime 72 introdotte nel 2016 stiamo aspettando la codifica del 2017 che sarà in genere in giugno tra giugno e luglio arriverà la nuova che cosa ci prospetta questo sistema ci prospetta ovviamente una moltiplicazione incredibile di tutto perché ormai tutti premano in ogni direzione quindi le professioni vanno femminilizzate tutte ma questo vale anche per il colore della pelle vale per il colore degli occhi vale per il colore dei capelli perché tutti vogliono vedersi rappresentati recentemente hanno protestato tutti quelli diciamo un gruppo di quelli che hanno i capelli rossi lamentandosi che ci sono poche icone con i capelli rossi allora qui vedete le professioni questa fu una E una delle ultime 72 emoji accettate inizialmente ma siccome assomiglia a un sedere una pesca che assomiglia a un sedere e a un certo punto è stata utilizzata nel sexting la Apple l'ha ritirata ritirandola però ha determinato l'opposizione di un numero consistente di persone che ha fatto nascere un movimento per salvare appunto la pesca a forma di culo e la pesca è stata reintrodotta però se vedete quella che è attualmente è una versione un po' più alleggerita in cui la somiglianza con il deretano si fa avvertire un po' meno e qui c'è una serie di proposte di persone vedete rigorosamente rosse addirittura con capelli rossi e carnagione oscura perché? perché ripeto ci si è lamentati recentemente del numero scarso di persone con connotati fisici arieggianti in rosso e l'ultimo e qui chiudo davvero potrebbe essere l'hashtag l'ultimo segno da raccontare l'hashtag il cancelletto e anche l'hashtag una storia antica quella relativamente più recente la possiamo far risalegare più o meno 500 anni fa perché più o meno 500 anni fa l'hashtag diventa un segno tipografico di richiamo come qui in tanti testi sesenteschi troviamo a margine un cancelletto che come segno tipografico di correzione fa sì che si intervenga a correggere dove c'è da correggere più o meno coevo ma anteriore che è anche l'hashtag per indicare il vedete sharp che è il diesis quindi segno musicale altro precedente dell'hashtag per quanto l'orientamento sia diverso ed è interessante vedere anche questo è tratto da un manuale di descrizione seicentesco della funzione tipografica dell'hashtag e questo è il tavolo di composizione in cui è presente il segno sarebbe interessante risalire molto molto indietro risaliamo addirittura 40.000 anni fa questa è una cosa straordinaria in cui io sono incappato casualmente nel 2012 un film di archeologi si reca in una zona molto molto ricca di reperti archeologici come quella dell'area di Gibilterra e scopre un scavando molto scopre un nuovo insediamento di età neandertaliana questo insediamento è accompagnato dalla presenza di molte grotte quasi tutte grotte marine vengono scavate alcune di queste grotte vengono repertoriati i materiali che via via vengono trovati a un certo punto si entra in una grotta la grotta si chiama Guram se avete occasione di andare andate a vederla che è bellissima e voi entrate in questa grotta e notate a un certo punto sul pavimento questo segno un segno di cancelletto sono 13 segni sono 9 segni verticali e 4 segni orizzontali fatti troppo bene perché possono essere casuali quindi l'accordo degli archeologi in questo caso è totale tutti sono dell'idea che questo cancelletto sia stato fatto consapevolmente se voi entrate però vi viene un dubbio perché questo cancelletto non lo trovate in una zona casuale lo trovate una volta che avete superato un'ansa immaginate di entrare nella grotta girate di 90 gradi all'interno di questa grotta e vi trovate sul pavimento questo segno è un segnaposto un classico segnaposto se voi vi mettete nella posizione della persona che si trovava in quel momento all'interno non vedete l'entrata della grotta come vi spostate di un po' però l'entrata della grotta vi appare vi appare la luce si aggiorno in fondo alla linea diritta che vi conduce verso l'uscita quindi un punto strategico perché chi si trovava dentro poteva arrivare un predatore poteva arrivare chiunque a rivendicare il suo posto poteva accorgersi se era ovviamente attento in modo abbastanza rapido di un eventuale pericolo bastava che si sporgesse un po' e quindi era proprio un classico segnaposto a lui serviva per marcare la posizione all'interno della grotta il posto se lo era autoassegnato e quella funzione doveva poteva aver avuto però era anche in un posto preciso quasi fosse un'anticamera che gli consentiva di spostarsi rapidamente senza troppa fatica da un punto all'altro per vedere se qualcuno da fuori veniva a minare a minacciare la sua esistenza ovviamente la possibilità di essere lì all'interno ecco un modo per ricondurre un segno così moderno a un segno così antico ma è anche un modo per fare storia culturale insieme alla storia linguistica storia sociale insieme alla storia linguistica perché non dimentichiamo una cosa sostanziale alla quale noi sempre con maggior fatica stiamo dietro la continuità noi oggi sempre più spesso lavoriamo in termini di discontinuità la scienza lo sappiamo che lavora per gradi continui di discontinuità ma anche la letteratura anche diciamo l'arte l'arte anche gli studi umanistici sempre più spesso lavorano per cesure per fratture non per valori di continuità se recuperiamo in modo sano ovviamente il senso di una continuità allora recuperiamo anche il valore di una storia che può essere in questa chiave vista come una grande narrazione della quale cogliere di volta in volta proprio i punti che possono collegare una fase precedente a una fase successiva questo si fa molto più semplicemente ovviamente per una storia linguistica perché è più facile agganciare le parole se non altro a partire dalla loro base etimologica è molto più difficile per una storia sociale o culturale ma se lo sforzo è doppio noi con la storia linguistica ci portiamo dietro non solo tante storie affascinanti ma secoli e secoli di un'elaborazione culturale che volenti o nolenti si è sempre voluti incatenati gli uni con gli altri grazie ho finito grazie a tutti grazie a tutti